La città di Agropoli ha una nuova commissione per il paesaggio formata da cinque professionisti, i geometri esperti in beni architettonici e paesaggistici, Angelo Prota e Marco Gallo, dagli architetti esperti in beni architettonici e paesaggistici Olverman Mondillo e Daniele Miglino e dall'ingegnere esperto in beni architettonici e paesaggistici Giovanni I loro supplenti sono Giovanni Capo, Valerio De Luca, Raffaele Carbone, Biagio Sciscio e Valentina Conte. Il gruppo è stato eletto nel consiglio comunale di ieri 3 giugno dopo la votazione in aula. Il consiglio su proposta del sindaco ha ritirato la proposta di approvazione dei seguenti regolamenti Corpo di Polizia Municipale, Armamento del Corpo di Polizia Municipale, aggiornamento regolamento comunale per l'assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della città di Agropoli, settore cultura e turismo, regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, regolamento per la gestione e l'assegnazione degli spazi aquei ai fini di ormeggio e delle attrezzature comunali accessorie e gestite in regime di concessione dal comune di Agropoli, regolamento per il funzionamento del centro sociale polivalente, modifica regolamento generale delle entrate comunali e regolamento delle rateizzazioni. La motivazione del ritiro ha detto il sindaco, ulteriore approfondimento. Approvato infine l'ultimo argomento nel quale si è dato mandato al rimpinguamento di 30.000 euro al piano triennale 2021-2023 della società Agropoli Cilento Servizi, che da 2.100.000 passa a 2.130.000 euro. L'esigenza del rimpinguamento di 30.000 euro per la movimentazione della posidonia spiaggiata, ha detto l'assessore. Mutali passi. Dall'opposizione Agostino Abbate ha contestato al sindaco il ritardo e a volte la mancata trasmissione via PEC dei documenti utili all'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno, mentre Gisella Botticchio e Mario Pesca hanno ricevuto risposte sull'interrogazione al sindaco e agli assessori Santosuosso e Mutali passi sulle procedure di gestione del cineteatro e sugli sviluppi riguardanti l'area verde del porto di Agropoli.